Yo Willers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi, siamo qui per l'episodio numero 71 della nostra carriera con Alas Adamson alla guida della 1&1 Racing Team qui su Motorsport Manager, round numero 2, primo dei due GP di casa per noi, GP di Imola, Emilia Romagna, ovviamente se non avete visto l'ultimo episodio round numero 1 di questa seconda stagione in Formula 1, il GP di Sakhir in Bahrain, cliccate nell'angolo in alto a destra e recuperatelo prima di dare un'occhiata a questo episodio perché sono successe tantissime cose, ovviamente prima gara della stagione cominciamo già a capire quali possono essere le gerarchie ma soprattutto anche tanto altro al di fuori della gara, soprattutto per quanto riguarda nuovi sponsor in arrivo eccetera per noi. Ovviamente vi chiedo come sempre di lasciare un bel mi piace per supportare la serie, commentate qui sotto con il vostro pronostico riguardante questo secondo round stagionale e soprattutto come sempre se vi piace questa serie, se vi piacciono le serie del canale vi invito a valutare l'iscrizione perché è totalmente gratuita, per voi è solo qualche secondo di perdita di tempo diciamo così, andate anzi in questo momento là sotto e iscrivetevi, per me invece fa una grandissima differenza. Detto questo ragazzi tuffiamoci subito all'interno del nostro secondo round stagionale, vediamo cosa riusciremo a fare in questo gran premio di casa, clicchiamo su continua, possiamo già scegliere uno sponsor, tra i due ovviamente quello Ferrari dovrebbe essere il migliore, al contempo però è il più irraggiungibile, invece un podio in caso di condizioni estreme potremmo raggiungerlo, quindi andiamo a scegliere Shell e per quanto riguarda invece la selezione delle gomme andiamo appunto a scegliere il numero di treni di gomme. 10 treni di gomme rosse, 7 di gialle e 3 di medie perché ricordiamolo un pit stop lo dobbiamo fare sicuramente e molto probabilmente la strategia migliore per noi sarà quella di montare una gomma gialla in partenza, fermarci e montare un altro treno di gomme gialle. Montatura dei componenti già effettuato, scendiamo in pista per il venerdì di prove libere. Ed eccoci pronti per le prove libere in quel di Imola, venerdì scegliamo Max Verstappen e Vito Freire, setup delle vetture, gomma rossa per Vito Freire, gomma gialla per Max Verstappen, proseguiamo, scendiamo in pista. Per le nostre prove libere mandiamo subito in pista Vito Freire che però ha assetto da gara, quindi per quanto riguarda il pilota portoghese gomma gialla per Max Verstappen, assetto da qualifiche, quindi per lui montiamo la gomma rossa. Mandiamo in pista anche l'olandese, noi come sempre ci rivediamo direttamente per l'inizio del Q1. Ed eccoci pronti per le qualifiche Sabato Q1 in quel di Imola, conoscenze per noi, tutto a livello 3, gomme medie, bianche, al livello 1, andiamo a scegliere ovviamente gomme super morbide, assetto da qualifiche per entrambi i nostri piloti. Per appunto queste qualifiche dobbiamo per quanto riguarda il setup leggermente migliorare la velocità massima per quanto riguarda Mick Schumacher, per quanto riguarda Max invece 99%, siamo al 98% con Mick Schumacher, quindi un piccolo ritocco, abbiamo migliorato la manovrabilità e leggermente di un nulla peggiorato il bilanciamento della velocità. Gomme rosse montate per entrambi, scendiamo immediatamente in pista, mandiamo subito in pista Mick con la sua gomma rossa a seguire subito Max per provare magari a sfruttare la scia l'uno dell'altro. Max ha passato Mick durante il suo giro, va a chiudere Max Verstappen in prima posizione con il compagno di squadra, quasi un secondo di distacco. Mick molto molto lontano, vediamo come chiudono gli altri ma Novalac sembra velocissimo, un secondo e mezzo di vantaggio su Max Verstappen, due e mezzo su Mick Schumacher, il tedesco deve assolutamente cercare di migliorare il suo tentativo, mentre Verstappen è davanti a Bernard, davanti a Collet, siamo in una buona condizione ed è molto vicino anche a Frederic Vesti. Max in tredicesima, lo facciamo scendere in pista per primo, 99% per lui il setup, dobbiamo controllare quello di Mick Schumacher, Mick lo faremo scendere all'ultimo per cercare di sfruttare al meglio le condizioni della pista che pian piano stanno migliorando. Mick scende in pista, eccellente, tutto eccellente, 99% il suo setup, gomma rossa nuova, mandiamo in pista anche lui, mentre controlliamo l'ottimizzazione effetto scia di Max Verstappen, vediamo se riusciranno a migliorare, soprattutto perché Mick si trova in questo momento in ultima posizione. Max, primo settore non ha migliorato nel secondo, sta migliorando il suo primo tentativo, non migliora però nel terzo, rimane in tredicesima posizione, è a un decimo scarso, un decimo e qualcosa di vantaggio nei confronti di Oscar Piastri in questo momento, mentre Mick Schumacher, primo settore migliora ma è già a un secondo di ritardo. Va a chiudere Mick ma non basterà, 1-5-8-7 dopo due settori, a 2 secondi e 4 rimane in ultima posizione, inizio disastroso di questo weekend per il nostro nuovo pilota Mick Schumacher, mentre Max Verstappen si qualifica in tredicesima posizione. Eliminati Timo Bernard, Caio Collè, Robert Schwarzman, Yuki Tsunoda e Mick Schumacher, passa Verstappen in tredicesima, scendiamo immediatamente in pista per il Q2. Subito in pista Max, nessun rischio di pioggia per questo gran premio, gomma rossa nuova, tentiamo subito il primo giro della sessione. Max va a chiudere il suo primo tentativo, va in testa ma è il primo ad averlo terminato, Novalac ancora una volta sta facendo un doppio fucsia, vediamo a quanto ci troviamo dal nostro ex pilota, un secondo e7, bisogna assolutamente migliorare nel secondo tentativo, Verstappen ha nelle corde secondo me una tredicesima, forse anche dodicesima posizione. Scendiamo all'ultimo con Max che è quattordicesimo, purtroppo Pato Ward ha fatto un grandissimo tempo nel suo tentativo, scendiamo in pista con gomma rossa nuova, speriamo di riuscire a migliorare questo tentativo, con questo tentativo la nostra posizione almeno per superare il pilota della Haas. Sta andando a chiudere Max Verstappen a un secondo dopo due settori, 1-5-5-6, riscavalca Piastri, ma non basta per passare Pato Ward purtroppo per soli 6 millesimi, ci troviamo in quattordicesima piazza, eliminati nel Q2. Esclusi dal Q3, Frederic Vesti, Carlos Sainz, Pato Ward, Max Verstappen e Oscar Piastri, proseguiamo, andiamo a simulare il Q3 e poi valuteremo la griglia di partenza insieme. Domina il nostro ex Clement Novalac, primo nel Q1, Q2, Q3 si prende la pole davanti a Arthur Leclerc, poi Theo Purcell e Lando Norris, Ertha, Sirotkin, Zou, Fittipalti, Leclerc e Russell, Vesti Sainz, Howard Verstappen, Piastri Bernard, College Wartman, Zunoda, Schumacher. Proseguiamo e scendiamo in pista per la gara. C'è il sole, nel Q3 c'è stata un po' di pioggia, ma sembra che non ci possa essere. Durante la gara andiamo a scegliere la nostra strategia, gomme morbide e assetto da gara e ora andremo a valutare quanto durano le gomme gialle per valutare anche quanto carburante andare ad imbarcare. Gomma gialla dei 25 ai 27 giri, addirittura facciamo una gran parte della gara, forse possiamo pensare addirittura di montare con max, ma è un rischio comunque montare la super morbide. Però probabilmente potremmo anche passare dalla gomma gialla alla gomma rossa con Max Verstappen. Comunque partiamo con entrambi con gomma gialla e andiamo subito a spingere in modalità attacco e modalità motore alta. Iniziamo la nostra gara. Pronti allo scatto! Ventesimo Schumacher in ultima posizione, quattordicesimo Verstappen un po' più su, si spengono le luci brutta la partenza di Max Verstappen, bruciato da Piastri. Quindicesimo Max Verstappen poi trova la via all'esterno e ripassa Oscar Piastri, addirittura prova la via interna. Bravissimo Max Verstappen che sale in dodicesima posizione, però attenzione a Piastri che ha uno scatto verso l'esterno incredibile e si trova leggermente bloccato Max Verstappen, ma poi trova la via giusta e recupera in undicesima con anche Mick Schumacher che ha fatto il primo settore fucsi ed è risalito in diciassettesima posizione. Tsunoda è straultimo, quindi probabilmente ha fatto un errore, ma bravissimo Max Verstappen, perso una posizione allo scatto ma poi grandissimo recupero. Undicesima posizione, siamo i primi in pista con la strategia alternativa, con la gomma gialla abbiamo dietro Patoward con gomma bianca, però ricordiamolo, tutti comunque dovranno effettuare un P-stop. Inizia in questo momento il sesto giro, stiamo perdendo un po' là davanti da Norris, abbiamo un secondo e mezzo circa di svantaggio e siamo sotto attacco da Leclerc che però ha una gomma piuttosto usurata e Piastri un po' più indietro che comunque sembra avere un buon passo. Là davanti sta cominciando, si ferma Norris, Mick Schumacher è sceso in diciottesima in lotta con Schwarzman che ha gomma rossa, sta comunque gestendo la gomma abbastanza bene. Noi stiamo consumando il carburante per cercare di alleggerire la vettura perché naturalmente intorno al sedicesimo, diciassettesimo, massimo ventesimo giro appunto a fermarmi per effettuare il P-stop. Max Verstappen in questo momento sta comunque tenendo un buon passo, non è lontano da Norris, se riusciamo a tenere questo passo dobbiamo valutare naturalmente quanto, che gomme andranno a montare ma molti sembrano montare la gomma media, Norris monta la gialla. Bisogna vedere se riuscirà ad arrivare in fondo, perché forse è un po' troppo giusta, la strategia potrebbe fare due P-stop e soprattutto è molto molto indietro rispetto al gruppone. Quando incontrere il gruppone potrebbe anche trovarsi nel traffico. Verstappen quindi è risalito in nona con Mick Schumacher in sedicesima. Altri P-stop nono giro, Max Verstappen è risalito in terza ed è dietro solo a Hertha e a Vesti che sta gestendo molto bene rispetto a tanti altri della sua gomma rossa. Per ora Max Verstappen tiene tranquillamente dietro Charles Leclerc che comincia ad avere appunto una gomma piuttosto usurata. Piastri tiene il nostro passo, però riusciamo a tenerli bene dietro e a non farci attaccare dai piloti che stanno dietro di noi. Buon passo per ora da parte di Max, si ferma Colton Hertha, lo passiamo, Max Verstappen sale in seconda posizione e salirà in prima come Vesti andrà a fermarsi. Mick sotto attacco da parte di Colton Hertha ma riesce per ora a difendersi là davanti a lui, Timo Bernard si sta fermando per il suo P-stop ma è molto più lenta la vettura di Mick Schumacher. Sotto attacco dal pilota che poteva essere l'alternativa proprio a Mick Schumacher però si difende, bravo Mick Schumacher, continua a difendersi con una vettura che di sicuro non è a livello. Mentre Max Verstappen, attenzione c'è qualcuno che si ferma là davanti, è stato completamente bloccato Mick Schumacher che ora prova allora ad andare in modalità sorpasso ma perde tantissimo sul dritto. Ha perso tantissimo Mick Schumacher sul dritto ed è risceso in undicesima posizione, che traffico, con questo traffico si perde veramente tantissimo. Mick prova a spingere, guardate Leclerc come ci passa, come ci brucia, continuiamo a spingere un po' sul carburante per provare magari a fare da tappo nei confronti degli altri piloti che già hanno effettuato il P-stop. Dare un vantaggio a Max Verstappen che è ancora in seconda posizione, ha dato un po' di vantaggio, si è preso un po' di vantaggio nei confronti di Piastri, sta arrivando Novalac che però qualcosina lo sta perdendo. Penso che Vesti a momenti si vada a fermare, potrebbe fermarsi in questo giro, infatti si ferma Vesti e noi andiamo in modalità motore al massimo per cercare di spingere il più possibile. Max forse in prima posizione potrebbe avere anche un leggero aumento delle statistiche, vediamo se riesce a guadagnare qualcosina. È arrivato Novalac su Max Verstappen che sta cercando di gestire la sua gomma, siamo un po' al limite con la gomma, 28%, addirittura la percentuale migliore ce l'ha Mick Schumacher, però stiamo spingendo al massimo sul carburante per cercare di contrastare la perdita di passo dovuta alla gestione della gomma. Comunque abbiamo circa 2 secondi e 2, 2 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Piastri, ora sicuramente ci brucerà sul dritto Novalac perché sembra avere la vettura che l'anno scorso era a pannaggio di Theo Purcell, guardate come ci svernicia sul dritto. Incredibile Clement Novalac, la Red Bull è migliorata tantissimo, vediamo se riusciamo a tenere perlomeno minimamente il passo a farci trainare da Clement Novalac, ma come detto appunto sembra avere tutta un'altra vettura. Sta arrivando anche Theo Purcell da dietro che qualcosa l'ho guadagnato nei confronti di Novalac, ma sicuramente Theo ora perderà un po' di tempo nei sorpassi. Siamo al giro 17, direi di spingere al massimo con entrambi i nostri piloti e di fermarci e di fare un double stack. 17esimo giro, andremo a gestire un po' meglio la gomma nel prossimo stint. Proviamo anche il pit stop veloce per provare a guadagnare qualcosina. Scelta delle gomme ovviamente, gomma gialla nuova. Andiamo a vedere le opzioni per il carburante, dobbiamo andare a ricaricare per all'incirca 16 giri, direi a questo punto. Anche un 20 giri di carburante potrebbe essere una buona soluzione per noi. E ci fermiamo con Max Overstappen, ci fermiamo anche con Mick che purtroppo è crollato in quindicesima posizione, non aveva più il passo se viene bruciato Max, non oso immaginarmi come venga bruciato Mick Schumacher sul dritto. Anche per lui proviamo pit stop veloce, vediamo però perché ho il dubbio di non aver selezionato bene gomma gialla. Pit stop, facciamo 22 giri anche con Mick e per quanto riguarda la strategia di pit stop, veloce anche per lui. Max Overstappen si fermerà quindi al termine di questo giro. Si ferma Max che scende naturalmente di posizione, si è fermato anche Piastri. Buono il pit stop per Max Overstappen, vediamo in che posizione rientra purtroppo nel gruppone con Mick Schumacher che ugualmente si ferma, rientra in quindicesima Max Overstappen. In quindicesima posizione andiamo al massimo e modalità motore alta per entrambi i nostri piloti con Mick Schumacher che purtroppo è in ventesima posizione, dietro Schwarzman dovrà recuperare svariate posizioni. Teoricamente Tsunoda sarà comunque più indietro, però Max deve cercare di recuperare qualche posizione perché la quindicesima non è buona e purtroppo siamo dietro un trenino infinito. Anche se credo che tanti sicuramente dovranno ancora fermarsi, Pato Ward con le Sainz che non hanno ancora effettuato il pit stop, ma alcuni probabilmente dovranno fermarsi nuovamente per effettuare un pit stop. Penso Fittipaldi, Norris, Russell si sono fermati troppo presto con quella gomma gialla. Schianto per Timo Bernard, bandiera gialla, nessuna safety car, quindi guadagna già una posizione Mick Schumacher. Come detto, nessuna safety car, quindi a noi non cambia praticamente nulla. Max ha raggiunto il gruppetto, vediamo se con la modalità carburante alta riusciamo a provare qualche attacco. Ci sta già provando all'esterno nei confronti di Sainz, riesce ad effettuare il sorpasso, ma risponde Sainz. Risponde Sainz all'interno, quindi stiamo perdendo già troppo tempo. Abbiamo anche Sirotkin molto lento, ancora continuiamo a spingere per provare a liberarci di questi piloti, perché se vogliamo puntare alla zona punti dobbiamo assolutamente effettuare questi sorpassi. Si ferma Sainz quando abbiamo appena effettuato il sorpasso con Max Verstappen. Là davanti teoricamente c'è solo Pato Ward che si fermerà, quindi risaliremo in undicesima. Dobbiamo recuperare qualche posizione nei confronti di Vesti, perché rischia ancora la Hitek di guadagnare delle posizioni. Io spero che comunque Norris, Russell, eccetera, e magari anche Vesti stesso, si fermino per il loro pit stop. Verstappen in undicesima posizione, continuiamo a spingere così e lasciamo un po' di carburante da parte, mentre Schumacher deve gestire la gomma e può andare in modalità sorpasso. Cerchiamo di gestire il carburante di modo da provare a fare il passo, vedere se riusciamo ad avvicinarci a Vesti e magari spingere poi nelle fasi finali della gara sulla modalità motore per tentare magari appunto i sorpassi. E alla fine tantissimi pit stop, Verstappen è risalito in quinta perché anche Vesti si è fermato per un altro treno di gomme, dobbiamo cercare di difenderci da Zou, non sarà facile, abbiamo però un buon vantaggio nei confronti di Piastri, sarebbero tanti punti per noi in questa gara, difficile come detto difendersi dalla Zou, dalla Alpine di Guanizhou, ci proveremo, ma anche una sesta posizione comunque la prenderemo con tanta, tanta positività perché sarebbe comunque un buon quantitativo di punti nella gara di casa. Intanto Mick Schumacher è risalito in quattordicesima, per lui però nessuna possibilità di fare punti in questa gara, continuiamo a spingere sulla modalità carburante perché ne ha da spendere tanto prima della fine della gara e abbiamo visto che risparmiamo più carburante del dovuto e quindi non abbiamo problemi da quel punto di vista. Sta iniziando l'ultimo giro, ancora una volta si è difeso come un leone Max Verstappen, ancora in quinta posizione, sta rintuzzando tutti gli attacchi di Guanizhou, da dietro sta arrivando Fittipaldi, vediamo se riesce anche in quest'ultimo giro quanto carburante risparmiamo, incredibile, ho spinto in modalità sorpasso ogni singolo giro praticamente dall'inizio del secondo stint, eppure finiremo con praticamente due giri di carburante in più, quindi avremmo potuto spingere ancora di più, avremmo potuto metterne di meno considerando che ne abbiamo caricato, se non sbaglio, una ventina di giri per farne 17, quindi ne abbiamo risparmiato alla fine 5 giri più del dovuto, Clement Novalak vince la gara, Purcher a inseguire a quasi 10 secondi, Colton Herta ha splendido podio, Arthur Leclerc in quarta e Max Verstappen riesce alla fine a chiudere con una splendida quinta posizione nel Gran Premio di casa, sono 10 punti per noi fondamentali, perché guadagniamo sicuramente tantissime posizioni nel campionato costruttori, Mick Schumacher termina con una buona quindicesima posizione, anche se da lui ci aspettiamo altro, ma sappiamo che la seconda vettura ancora non è all'altezza. Controlli da parte della FIA, per noi nessun rischio di infrazione, credo per nessuno sulla griglia, Clement Novalak vince con il giro veloce davanti a Theo Purcher e Colton Herta, poi Arthur Leclerc, Max Verstappen Guanyu, Enzo Fittipaldi, Lando Norris, George Russell e Charles Leclerc, a completare la zona punti, Oscar Piastri, Pat Howard, Frederic Vesti, Sergei Sirotkin e Mick Schumacher, Caio Collè, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Robert Schwarzman e Timo Bernard, che ha chiuso per incidente anzitempo. Classifica piloti, Max Verstappen sali in ottava con Clement Novalak a punteggio pieno, 52 punti, 26 più 26, il nostro Colton Herta, la nostra seconda scelta, in seconda posizione, buon per lui perché sicuramente con la nostra seconda vettura non sarebbe potuto arrivare così in alto, Arthur Leclerc in terza, il campione in carica Theo Purcher sale in quarta posizione, come detto Max Verstappen sale in ottava con Mick Schumacher in diciottesima, ancora a quota 0 punti, ma sono dal 14esimo in giù, tutti ancora a quota 0. Classifica costruttori, saliamo in sesta piazza, balziamo davanti alla Hightech grazie a questi 10 punti e siamo solo a meno 2 dalla Alpine, a meno 8 dalla Mercedes, mentre Red Bull, Ferrari e McLaren stanno già cercando di scappare. Eccoci a reso conto Scuderia, vediamo il morale di Mick che aumenta comunque del 12%, aumenta anche quello di Max Verstappen del 15, quarto posto raggiunto in questa gara, quindi il nostro presidente Jim Farley molto molto felice, nuovo sblocco, infermiere, condizioni dell'auto diminuisce un po' meno velocemente il livello 2 per Max Verstappen, meno 166.000 euro e proseguiamo tornando alla nostra dashboard col motore che è stato completato. Meccanici epistop, andiamo a vedere le possibili assunzioni, se ci sono dei valori interessanti, abbiamo solo un 92 per Monaldini, un 91 per Tiritiello, ma credo di avere dei meccanici da livello superiore rispetto a questi, quindi andiamo tutti a rifiutarli e a modificare la squadra per il prossimo Gran Premio. Questa sarà la nostra squadra meccanici per il prossimo Gran Premio, il GP dell'Algarve tra soli tre giorni, tutti meccanici con la statistica 20, guardate, cric anteriore, cric posteriore, tutte le gomme, tutti i due in riparazione, i due al rifornimento, tutti con 20, ciò ci garantirà un guadagno epistop incredibile rispetto alle altre scuderie. Andiamo subito alla schermata della monoposto perché abbiamo il nuovo motore da montare e poi andiamo subito a progettare un nuovo componente e poi vedremo i messaggi di posta. Ovviamente nuovo pacchetto freni, è questo il reparto in cui siamo più in basso, decelerazione più 20 e decelerazione più 30 e così siamo buoni, costruiamo un nuovo freno che è comunque migliore rispetto ai precedenti cinque giorni dopo la gara, quindi dovrebbe arrivare prima della quarta gara della stagione che è il GP di Barcellona e ci può fare un gran comodo. Siamo al settimo posto come motore, al settimo come cambio, all'ottavo come freni e al settimo come alettone posteriore. Saliremo ora con i freni e poi potremo aumentare anche tutti gli altri reparti. Riparazione della vettura completata, quindi andiamo a migliorare i componenti, dobbiamo migliorare assolutamente il componente per quanto riguarda l'affidabilità, quindi tutto lo staff assegnato sull'affidabilità e andiamo a migliorare i due motori migliori, anche se ci servono il cambio e l'alettone anteriore addirittura. Stiamo migliorando il secondo pacchetto freni anziché il migliore stupido io e andiamo quindi a migliorare, anziché i freni direi di andare a migliorare il nostro cambio al momento e andiamo a vedere anche il montaggio dei componenti perché ho paura che non sto utilizzando i due, sì, stiamo utilizzando comunque i due pacchetti freni migliori. Ne abbiamo uno in arrivo per la prossima gara e abbiamo anche delle interessanti offerte per gli sponsor. Abbiamo un'offerta da parte di Martini, un'offerta da parte di Alfa Tauri, un'offerta da parte di Verizon. La migliore sicuramente è Martini, è sempre uno sponsor obiettivi, pagamento bonus un milione tra qualifiche e gara per il primo posto, ma è nettamente migliore rispetto agli altri, mi pare. Alfa Tauri non possiamo sceglierlo perché comunque abbiamo lo sponsor di Ferrari, non sarebbe giusto. Uno sponsor Ferrari Martini sarebbe molto interessante, gratifica bonus gare in casa, Gran Premio d'Italia 4 per, 20 milioni ci arrivano subito, saliamo a oltre 200 milioni di euro. Abbiamo un quantitativo di soldi spropositato e ancora ci manca lo slot 4. Offerte da parte di Male, di Acronis e di Velo. L'offerta migliore dovrebbe essere quella di Male, 3 milioni e mezzo di pagamento in anticipo, spendono solo 25 mila in meno per gara, però per lo stesso quantitativo di gare Velo è nettamente minore, accettiamo male. Altri 3 milioni e mezzo di euro. Abbiamo purtroppo pochi introiti senza, a causa del pagamento bonus a obiettivi, pochi introiti per settimana con questi sponsor. Comunque tra 6 gare scadrà anche Husky Chocolate, abbiamo un quantitativo spropositato di soldi. Comunque nel budget, entrate al netto per gara di meno 288 mila euro al momento. Nuovo materiale per il motore. Attenzione c'è un dilemma. Ciao Alas, uno dei nostri alla struttura di progettazione mi ha appena mostrato un nuovo tipo di lega in grado di rafforzare la qualità dei nostri componenti. Se entriamo in contatto con il fornitore potremo provarla sul motore. Più 35 alle prestazioni del motore per 600 mila euro. Lo facciamo immediatamente, spendiamo 570 mila euro e sono curioso subito, il nostro motore ha subito aumentato ed è salito al sesto posto. Questo potrebbe aiutarci veramente tanto nell'economia delle prestazioni e soprattutto nelle gare in cui abbiamo bisogno di tanta prestazione al nostro motore. Proseguiamo nel calendario e arriviamo direttamente alla fine settimana del Algarve. Andiamo a vedere il miglioramento dei componenti per vedere se il nostro nuovo motore si è raggiunto un 62% di affidabilità. Andiamo subito a migliorare la prestazione. Torniamo alla nostra home. Con questo abbiamo terminato per questo episodio ragazzi. Se vi è piaciuto questo quinto posto di Max Verstappen 10 punti fondamentali per noi lasciate un bel mi piace per supportare la serie, commentate qui sotto e soprattutto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti. Io vi do appuntamento al prossimo episodio, round numero 3. GP dell'Algarve in Portogallo. Mi raccomando, non perdetevelo. Alla prossima. Ciao Willers! Ciao Willers!